ciao a tutti benvenuti in un nuovo video è un video racconto di cosa è successo in pratica rientro a casa dopo aver fatto le commissioni e trovo grigetta che si è incastrata il becco nella campanellina del giochino si era fissata con questa campanellina l'aveva staccata io pensavo ci giocasse e basta e invece se l'era incastrata nel becco che cosa è successo è successo che il perno interno della campanellina le si era gonfiata la lingua e ce l'aveva sotto la lingua era incastrato quindi a un certo punto chiamo il negozio d'animali e gli dico di mandarmi qualcuno per sbloccare la situazione loro mi dicono guarda noi appena si libera qualcuno ti mandiamo qualcuno però provaci anche tu per cui spegni la luce e nel momento in cui non ti vede e prendila tanto non ti può mordere l'ho presa tra le mani faceva come una pazza ma come una pazza e praticamente ho cominciato a cercare di vedere la situazione perché non sai se gli ha ferito la lingua se qua se là quindi ho cercato di pian piano far perno finché non mollava la contrazione della lingua finalmente dopo due o tre tentativi esce la campanellina e lei mi morde e strilla non è uscito sangue per fortuna non si è ferita ma io mi sono preso uno spavento incredibile ragazzi incredibile cioè non lo non lo auguro a nessuno veramente è stata una cosa tremenda anche perché io l'ho tenuta sotto osservazione perché dovevo capire se mangiava se comunque era bacchiata se reagiva eccetera eccetera quindi dovevo capire un po tutto la situazione quindi la paura c'è stata e anche tanta e niente io ora mi sono svegliata finalmente ho ripreso sonno perché comunque per ora mi sveglio alle tre per ripassare la materia visto che lunedì ho l'esame e sono molto molto emozionata e praticamente l'ho trovata che chiacchierava e che mangiava quindi sta bene un bacione